Abbiamo preso atto di questa volontà di Banca d'Italia, ha espresso la sua opinione in merito di non voler far ammettere altre parti civili oltre la loro, quindi vediamo come si svilupperà il procedimento. Tutto ancora da decidere, se ne riparla il prossimo 13 di aprile. In questa data il GUP Anna Maria Loprete deciderà se rinviare a giudizio Giuseppe Fornasari, David Canestri e Luca Bronchi, rispettivamente ex presidente e dirigente e DG della vecchia Banca Etruria. E' approdato così al Tribunale di Arezzo il crack Banca Etruria l'accusa per i tre di ostacolo alla vigilanza contestata dal PM Roberto Rossi. Decine i risparmiatori che hanno presentato domanda di costituzione di parte civile attraverso legali e in un solo caso attraverso fedel consumatori, mentre Codacons, Unione dei consumatori e Conf consumatori hanno presentato a loro volta anche richiesta di costituzione di parte civile come associazioni. Noi non è detto che non ci sostituiamo, l'abbiamo fatto stamani attraverso un nostro associato, perché l'interesse nostro è quello di acquisire tutti gli atti processuali. Unico sindacato che ha presentato la richiesta di costituzione di parte civile è stata la FIRST CISL. Al nostro modo di vedere la lesione dell'immagine è evidente, la FIRST CISL ha sempre avuto un ruolo primario anche rispetto alla Banca d'Italia nel governare le norme per un codice etico e per una corretta rappresentazione e una trasparenza nelle azioni. Sosteniamo con forza la nostra costituzione di parte civile, sappiamo che esiste anche giurisprudenza non sempre conforme rispetto a questo tipo di iniziativa e siamo orgogliosi di essere stato l'unico sindacato ad attivarci. La miglior difesa, si sa, è l'attacco e così l'avvocato di Banca d'Italia in aula sostiene che l'unica costituzione di parte civile ammissibile sarebbe proprio quella di Palazzo Koch. La Banca d'Italia nell'argomentare la propria legittimazione ad essere a costituirsi parte civile ha anche richiamato l'attenzione sulla giurisprudenza che esclude la possibilità per gli azionisti e per gli obbligazionisti, quindi per i terzi, di costituirsi parte civile. La cosa effettivamente ci ha lasciato un po' stupiti. Banca d'Italia non ha nessuno interesse che determinati documenti vengano fuori e che siano quindi visibili al singolo cittadino che magari potrebbe costituirsi parte civile. Sono documenti che sicuramente potrebbero attestare la responsabilità non solo degli ex amministratori ma anche e soprattutto quello che preme a loro degli organi di vigilanza. Un mese di tempo, giorno più giorno meno, per gli avvocati difensori di Fornasari, Canestri e Bronchi rispettivamente, Antonio Davirro, Luca Fanfani e Antonio Bonacci, per leggersi tutte le carte e fare le contraddeduzioni, poi il 13 di aprile la decisione finale. Dobbiamo valutare, dobbiamo leggere perché sono stati scritti degli atti piuttosto corposi. Sono le vari soggetti che hanno chiesto di costituirsi, vediamo, leggiamo, valuteremo, dedurremo.